Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi dove faremo un tutorial un tutorial su questo Mac su questo MacBook Air piccolino vi dico subito, allora per chi ci segue, per chi ci conosce questo è il notebook è il Mac di David Rubino, come possiamo andare a vedere è il Mac di David Rubino quindi lo conoscerete, insomma per chi ci segue sul canale lo ha visto abbiamo fatto qualche video insieme, abbiamo fatto il pc fisso per casa questo è il portatile che utilizza quando si muove per lavorarci e tutto quanto ha un piccolo problema, il problema è la tastiera ovvero non gli funzionano più alcuni tasti di questa tastiera dobbiamo andarla a sostituire e con l'occasione che dobbiamo fare questo tipo di lavoro volevo farvi vedere come era insomma un tutorial anche perché visto che ci sto che lo smonto vorrei anche fargli una pulizia, quindi un cambio della pasta termica una pulizia della ventola e quindi vi farò vedere tutto il processo di smontaggio, rimontaggio e sostituzione tastiera almeno magari ad alcuni di voi, a qualcuno di voi potrà tornare sicuramente utile allora per prima cosa naturalmente ho qui un po' di cacciaviti sono tutti tutti i cacciaviti francesi, le torx diciamo quindi dobbiamo andare a rimuovere la scocca finito di svitare tutta la parte posteriore, questa viene via molto comodamente possiamo vedere già è bella sporca però questa qui non cambia niente, dopo la puliremo guardate la ventola come invece è veramente veramente comunque sia sporca quindi qui dopo andremo a fare un lavoro di pulizia per quanto riguarda tutto ciò che è la viteria vi consiglio di o dividervela a gruppetti come faccio io ricordando poi la posizione, tanto qui sono tutto uguale tranne le ultime due che sono le centrali perché sono le più alte oppure sennò di farvi un foglio di carta con uno schema e ve le posizionate vendono anche dei kit, dei tool di plastica che hanno tanti buchini in modo che l'andate a riposizionare più o meno dove stavano messe così non vi sbagliate proprio, però se lo fate più o meno, se lo avete già fatto insomma più o meno qualche volta sicuramente siete un po' più esperti e riuscite a ricordarvi come andavano adesso qui c'è un lavoro da fare che bisogna sganciare tutto ciò che è il comparto della batteria che sono queste, poi dobbiamo andare a rimuovere la parte della scheda madre quindi con annessa, ventola, dissipatore, come vedete qui andremo a sostituire la pasta termica qui sotto puliamo il dissipatore, puliamo la ventola e arriviamo, dobbiamo arrivare sotto dove si trova appunto il retro della tastiera allora cominciamo a togliere un po' di viti dobbiamo scollegare il connettore che collega appunto il pacco batterie alla scheda madre questa dobbiamo sganciarlo, mi raccomando fate attenzione a quando lo sganciate perché comunque sia la linguettina qui potrebbe rompersi perché comunque questo qui dopo parecchio tempo si va un po' ad incollare quindi comunque si va ad incollare alla scheda madre qui dobbiamo stare un po' attenti, io cerco di afferrare un po' la linguetta più tutto il cavo e vediamo se riesco, ecco qua, insieme a fargli fare lo scattino così almeno riesco a sfilare il tutto ecco fatto sganciato, almeno abbiamo messo in sicurezza anche abbiamo tolto la corrente dalla scheda madre possiamo andare a rimuovere il pacco batterie eccolo qua, questo lo rimuoviamo lo mettiamo da parte come ho fatto in precedenza queste viti che riguardano appunto questo gruppo le metto insieme così non le perdo cerchiamo di lavorare puliti ed ordinati siamo arrivati già questo qui è il retro del touchpad questo qui è il retro della tastiera dobbiamo rimuovere le casse sono queste queste sono semplicemente incollate connettore della cassa lo sganciamo con molta delicatezza perché questi cavetti sono veramente veramente sottili le andiamo a rimuovere cerco di mantenere questo adesivo iniziamo magari con un pennellino a pulire un po' i componenti insomma gli togliamo quella polverina in più stessa cosa facciamo per l'altro lato per l'altra cassa il collettore ha questo dentino a un certo punto lo troviamo qui, ve lo indico questo dentino qui quindi mi fa capire che il pin non va sfilato verso fuori ma va sollevato verso l'alto se noi andiamo a fare un po' di leva qui ci aiutiamo piano piano un po' con la mano un po' con uno strumento questo qui è uno strumento in plastica per evitare dei contatti se noi andiamo a tirarlo su piano piano riusciamo a farlo sganciare ecco qua si è sollevato leggermente noi andiamo adesso con il cavolo tiriamo su e lo sganciamo bene, fatto questo adesso cominciamo a giocare con il discorso invece dell'adesivo ecco qua rimossa anche la seconda cassa facciamo lo stesso procedimento la pulisco e la metto via e abbiamo le due casse messe lì sganciato questo siamo arrivati diciamo alla nostra scheda madre che ha dei connettori che vanno nella parte inferiore alla scheda allora per prima cosa possiamo andare a sganciare questo connettore questo è solo a pressione verso il basso lo sganciamo perché divide la parte laterale questa qui del connettore dell'alimentazione a tutto ciò che è alimentazione scheda madre quindi comunque questa cosa qui la andiamo a sganciare a rimuovere per lavorare comodamente con la ventola eccolo qua questo cavettino qui lo possiamo rimuovere tranquillamente direi di andare a sganciare tutto ciò che riusciamo a togliere per dividere dobbiamo comunque rimuovere la scheda madre quindi direi di andare a svitare le viti che troviamo e man mano le mettiamo da parte insieme alle vari componenti che andiamo a rimuovere quindi questo cavetto qui sono diverse queste viti quindi non ci sbagliamo una volta svitata come vedete le ho messe così perché la ventola stava in questa posizione quindi dal momento che io vado a sollevare la ventola ricordatevi sempre che è collegata quindi con molta cura fate attenzione a dove è collegata non strattonate mai avremo il gancetto protettivo possiamo sfilare la ventolina e la metto in questa posizione così mi ritrovo le viti come stavano messe una, due, tre naturalmente prima di metterle nella loro posizione di come le ho trovate vado a pulire questa ventolina perché possiamo comunque vedere quanto può essere sporca quindi comunque la puliamo l'abbiamo pulita eccola qua adesso la possiamo mettere da parte allora qui il connettore di alimentazione lo avevamo già svitato poco fa c'è un cavetto che collega il microfono integrato del notebook come possiamo vedere qui questa parte qui nera è un microfono integrato lo vediamo dai forellini che si trovano qui e è collegato su questo chip quindi lo andiamo a scollegare sempre verso l'alto come abbiamo visto comunque per le casse lo andiamo a scollegare verso l'alto facendo sempre molta attenzione perché questi cavetti sono delicatissimi è molto facile che si stucchino che escono fuori diciamo dalla loro sede e che quindi diventa un problema abbastanza grande ecco qua l'abbiamo scollegato quindi abbiamo liberato questo chip che possiamo rimuovere in questo momento come vedete la parte del dissipatore dove ci soffia la ventola attraverso eccola qua è leggermente attappata neanche molto però considerando lo spessore di questo dissipatore già quei dieci fori tappati dalla polvere possono fare la differenza quindi adesso andiamo a rimuovere il dissipatore da sopra al processore è agganciato da una vite che è sotto questi cavi che sono quelli della wifi scomodissima come cosa devo dire la svitiamo e possiamo rimuovere il dissipatore questa vitina speriamo di non perdercela pasta termica naturalmente molto asciutta tantissimo asciutta anche sul processore come vedete è molto molto asciutta è molto farinosa adesso andiamo a pulire entrambe le superfici puliamo il dissipatore con basta un pennellino e soffiarci dentro con la bocca già basta insomma non serve per forza un compressore o dell'aria compressa per avere per ottenere un buon risultato quindi andiamo a pulire il tutto io utilizzo il prodotto Articlean perché mi aiuta a sciogliere diciamo la pasta la pasta vecchia ma in realtà si può fare anche comodamente con uno scottex o con un po' di alcol isopropilico ma non è necessario per forza l'utilizzo di insomma di solventi con l'articlean mi facilita il lavoro perché come vedete con una passata già riesce a togliere ogni residuo di pasta poi il dissipatorino invece lo andiamo sempre a spazzolare con un pennellino otteniamo un risultato perfetto abbiamo da quest'altro lato quest'angolo qui in alto a sinistra troviamo il connettore del video questo qui lo sganciamo si alza il gancetto viene via e il cavo può essere sfilato eccolo qua proseguiamo con il togliere le viti della scheda madre sotto l'SSD si troverà un'altra vita quindi non forziamo mai la mano andiamo a rimuovere anche il disco come vedete vite nascosta poi ci sono dei connettori che tengono ancorata la scheda madre la giriamo sul posto vediamo ok abbiamo liberato totalmente la nostra scheda madre guardate quanto è piccolina guardate lo sporco che si va a incrostare all'interno di questa piccola fessura questo con qualcosa di appuntito ecco qua rimossa la pellicola protettiva che poi ha anche il discorso della retroilluminazione lo possiamo vedere infatti questo flettino che rimane sulla pellicola è il discorso della retroilluminazione siamo finalmente arrivati giunti alla nostra tastiera questa è la parte più delicata di questo lavoro dobbiamo stare molto attenti qui qui e qui 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 allora fatto ciò possiamo andare ad inserire il connettore della tastiera e poi andiamo a riposizionarla bene ragazzi spero che questo tutorial questo video vi servirà nel futuro insomma per i possessori di questo stesso modello vi può tornare utile e spero che questo video vi sia piaciuto commentatemi qui sotto se volete vedere altri contenuti di questo genere perché comunque sono un po più tecnici un po più seri però sicuramente agli appassionati piacerà piaceranno molto se vi è piaciuto questo video naturalmente lasciateci il like ringrazio david per averci dato questo computer quindi comunque sia ci ha consentito di fare bene ragazzi arrivato david pronto prendo il merito e faccio la consegna devo dire beh vedi poi dopo dici no stai di consegnare il portale a david rubino no hai fatto 30 fai 31 vai da napoli verità è veramente impreciso sto ragazzi io non è che arrivo e me prendo il merito io arrivo e completo il lavoro fatto male da stefano molto giù c'è la pulizia del pc beh direi che è decisamente meglio come al solito adesso posso prendermi il merito easy fix ti ha fatto un bel lavoro io sono contento spero che ti piacerà ma a parte questo trattavo bene perché questo è un oggettino comunque sì che poi io questi non l'ho fatti non l'hai fatti 10 e poi l'anno io me ne so accorto ma è qua ramba qua facciamo vedere questo è un bel bozzetto qua perché io questo l'ho preso usato bella bottarella un po di meno bene visto che ci sei prossimi progetti prossimi di uscire allora prossimi progetti c'è un progetto molto grosso altro cinque mesi di riprese è una webseries ci saranno molti youtuber attori e quindi una cosa veramente veramente grossa e parto penso da settembre incomincio a girare ragazzi vi lascio in descrizione link al canale di david e vuole fare lavori ricordo su apple di qualsiasi tipo noi siamo qua perché ultimamente ci stiamo specializzando su quello che è il mondo apple dove molti negozi hanno difficoltà a metterci le mani perché è un mondo particolare le riparazioni sono particolari sono difficili però diciamo che siamo attrezzati per fare quasi tutto anche sulla mela arrivederci al prossimo video esatto come al solito stefano non farà niente farei cose malate io arriverò alla fine a prendere il merito ciao dai